Ciao amici d'Italia Top Games, buongiorno! Sabato 19 marzo, ultimo giorno di inverno e oggi sarà quindi l'ultimo, tra tante virgolette, aggiornamento di Football 2022. Stanotte è finito l'European Club Championship, quindi andiamo un po' a vedere oggi cosa ci propone Konami. Ho fatto anche il sondaggio in zona community, avete risposto in tanti, e quindi premiamo un pulsante qualsiasi e andiamo a vedere che cosa c'è. Ooooooh, ooooooh, il tempi caricamento è sempre un po' così, eh, track Spanish League. Allora, avevate ragione, e avevo ragione, chi aveva, come dire, pronosticato che ci sarebbe stato uno dei tanti eventi simili che abbiamo giocato in questi mesi, e così è andata. Eccolo qui, anche questo durerà soltanto due giorni, quindi durerà oggi e domani, lunedì ci sarà dell'altro. I premi, tanto per cambiare, sono 10.000 GP per una vittoria, 10.000 GP per due vittorie, 10.000 GP per tre vittorie nelle tre sfide. Sempre, 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 la stessa identica cosa, purtroppo andiamo a vedere, anche se magari ci fosse qualche novità per l'offline, ma non ci credo neppure se lo vedo, per l'appunto sempre le solite nove squadre. Volevo anche tornare un attimino su un'altra cosa, su questa cosa qui, che anche Renan Galvani, secondo me, ha ecceduto, tra virgolette, nel dargli importanza, perché ha detto, preparando il terreno per l'uscita della pubblicazione di 1.0. Allora, questa è una campagna vecchia, guardate lì bene, l'altra volta anch'io ho fatto confusione, mia colpa, e vedendola qui tra le notizie pensavo a qualcosa di particolare. Invece questa è la campagna dello scorso 11 novembre, quindi io penso che Conabi l'abbia messa qui soltanto per una ragione, ovvero un promemoria, magari perché inizia da giocare dopo, magari per chi se l'era scordata, ci ricordava che giocando almeno dieci partite si ottiene un accordo al buio per questo benedetto creative teams, con quindici partite si ottengono due accordi al buio e con venti partite giocate se ne ottengono tre. E finito lì, ma stiamo parlando di una cosa uscita dicembre, gennaio, febbraio, marzo, più di quattro mesi fa. Quindi io non gli darei tutta questa importanza, è solo un modo per ricordarci anche questo aspetto, e speriamo se lo ricordi anche poi Conami quando uscirà creative teams e finalmente potremo costruire la nostra squadra in stile MyClub. Questo, questo è quanto, segniamo tutte come lette, tutti gli elementi segnati sono come lette, ma qui secondo me torneranno infatti per l'appunto. Ragazzi, quindi buon divertimento con questo evento della Spanish League e con le sue tre sfide, fatemi sapere se lo giocherete o meno e con chi, in caso, io sapete che non giocherò iFootball 2022 fin quando non ci sarà una data ufficiale per l'uscita dell'aggiornamento 1.0 per l'uscita di creative teams, ma eventi del genere non li avrei giocati lo stesso, perché i DGP c'erano quasi un milione con la prossima accesso della campagna login volume 1, supererò il milione. Ci fosse stato il pre-season match volume 4, pre-season campaign volume 4, con la possibilità magari di prendere uno degli 11 giocatori del Teams 11, mi avrebbe, come dire, maggiormente, mi sarebbe dispiaciuto maggiormente non fare la campagna pre-season volume 4, ma con questi eventi semplici, così da due giorni e con questi 10.000, proprio no, no, no. Quindi ringrazio, tra virgolette, Konami per avermi tolto il dubbio di cosa fare o meno. Io vi auguro buon fine settimana, ci saranno tanti altri video anche durante il fine settimana, non di football. In questi giorni sto andando forte su WW2K22, spero che vediate anche quei video, perché è veramente un bel ritorno per la serie. Se siete arrivati qui per caso e non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo subito. Se siete già iscritti al canale e volete supportarci in qualche modo, potete farlo in due modi. Potete abbonarvi al canale, oppure fare gli acquisti su Amazon, passando per il link di affiliazione presente all'inizio e alla descrizione del video. Basta che cliccate lì, poi dopo potete fare qualsiasi acquisto, non importa di che genere, però dovete linkare lì. A voi vi assicuro non costa un centesimo, neppure un centesimo di più, ma con i vostri acquisti una minima parte va appunto per le esigenze del network, di spazio hosting, di tante cose. Però ripeto, a voi non costa un centesimo di più, state tranquilli, basta che cliccate lì e poi fate tutti gli acquisti che volete su Amazon di qualsiasi tipo e genere. Io vi ringrazio sempre per l'attenzione, per i commenti, per i ringraziamenti, per i complimenti, insomma per tutto, per fare community, per chi mi aiuta ricordandomi che su Instagram c'è quella funzione. Io lo uso pochissimo Instagram e quindi non lo sapevo. Insomma, davvero, questo è fare community. Io da solo non riesco a vedere e sapere tutto. Quindi fare community è fondamentale. Buon divertimento se farete la Spanish League e al prossimo video. Ciao!